Una giornata che si concluderà con il giuramento dei giovani colleghi e con questo atto entrano di fatto nella casa del medico che è l'ordine professionale. Fare il medico è certamente una sfida professionale impegnativa che richiede preparazione, serietà, dedizione, competenze scientifiche e tecnologiche. Ma essere medico non può prescindere dalla comprensione della psiche umana e dai fenomeni sociali del suo tempo. Un buon medico è colui che sa ascoltare prima l'uomo e poi il paziente è colui che è capace di stabilire con il proprio paziente un legame basato sulla fiducia e sull'alleanza, un legame insomma basato sulla relazione. Ma per esserci in relazione ci deve essere il tempo e non si può pensare ai nostri luoghi di cura come una catena di montaggio. Quindi bisogna lavorare insieme, professioni, istituzioni e cittadini per costruire un'alleanza strategica che individui soluzioni che consentono al medico di poter fare il medico e ristabilire che atto medico è anche l'ascolto di chi soffre ed è l'articolo 20 nel nostro codice d'ontologico. Bisogna allontanarci dalla burocrazia e avvicinarci a chi soffre. Ma questi sono problemi vecchi a cui bisogna dare risposte nuove. Invece adesso incombono problemi nuovi a cui bisogna dare risposte certe. questioni come la competenza, l'autonomia, la responsabilità che sono fortemente intrecciate e non ultimo riconoscere dignità al ruolo del medico. Durante la pandemia siamo stati chiamati eroi. Noi non ci sentiamo eroi ma non vogliamo neanche vedere le nostre competenze umiliate da una scorretta programmazione del sistema sanitario nazionale. Riguardo alle competenze, oggi la grande sfida è riuscire a dare all'equipe una visione dinamica e non statica. Il punto d'equilibrio sta nella capacità di collaborare con un'unica finalità la qualità del percorso di cura per il paziente. Un percorso che è centrato sui bisogni della persona e attorno ad essa ruotano i professionisti della sanità con le loro competenze e le loro responsabilità. Non ci possono essere fraintendimenti quando si raggiunge questo equilibrio mi sembra talmente logico pensare che chi ha studiato per fare il medico faccia il medico e chi ha studiato per fare l'infermiere, il farmacista, il tecnico faccia l'infermiere, il farmacista, il tecnico e così via. Se questo non si capisce si rischia di danneggiare il cittadino che invece non ha studiato per fare il malato ma vuole essere curato e preso in cura da tutte le professioni cardine del nostro sistema sanitario. Vorrei ribadire che la nostra non è una professione tecnica per definizione ma è una professione intellettuale per arrivare a una diagnosi bisogna fare un ragionamento clinico bisogna conoscere i dati e sapere analizzare bisogna saper far diagnosi differenziale perché ogni sintomo non ha scritto sulla fronte il nome della malattia bisogna avere la capacità di non curare la malattia ma il malato e custodire la sua salute come un bene prezioso. Tutto questo è un atto medico ed è insostituibile perché il medico per arrivare a questo deve studiare dai 9 agli 11 anni per poi continuare ad aggiornarsi per tutta la vita. E allora dico che il letto del malato ha più lati e in ciascun lato ci deve stare un professionista con le sue competenze con i suoi saperi, con le sue capacità, con la sua etica e la sua responsabilità vuole stare o peggio ancora organizzare scientemente per far stare sullo stesso lato più professionisti crea solo confusione e disagio al cittadino al contrario invece è bene che ognuno stia dal proprio lato del letto del malato pronto ad intervenire un letto dove tutti i lati sono uguali per dignità e per importanza e tutti contribuiscono alla presa in carico della persona ma ancora di più oggi i bisogni delle persone sono una miscela di bisogni di cura di assistenza di bisogni sociali inseparabili che necessitano una presa in carico globale che vede come attori tutte le professioni sanitarie tutto questo farebbe veramente decollare quel concetto chiamato integrazione ospedale-territorio è un termine che a me non piace a me piace più parlare di continuità ospedale-territorio anche perché l'ospedale non è che fuori dal territorio il territorio e in particolare il medico di medicina generale ha già da tempo avviato questo percorso di qualità mettendosi in gioco per prima rinnovando il proprio ruolo con le affettive case della salute assieme ai nostri medici ci hanno talmente creduto che hanno investito personalmente tempo e denaro per far nascere un progetto innovativo adesso bisognerà pensare a tutelare i medici della continuità assistenziale che consideriscono di fatto un filtro importante per il pronto soccorso sono certo che la medicina di famiglia formulerà ipotesi organizzative per far sì che queste professionalità vedano riconosciuto il proprio valore chi lavora nel mondo ospedaliero sta vivendo da tempo e sicuramente acquinto dalla pandemia una condizione che ha visto aumentare a dismisura i carichi di lavoro di stress fisico e psichico che lascia spazio solo alla fuga delle strutture pubbliche oppure all'avvento come sta succedendo in alcune regioni delle cooperative è assurdo pensare che alcuni di nostri colleghi prendono stipendi di 2300 euro e delle cooperative di bassa qualità possono pagare anche 1000 euro noi non siamo dei mercanti noi siamo i tutori della salute dei nostri cittadini di questo ne abbiamo parlato insieme ai sindacati al ministro Speranza e al presidente della regione Fedriga quando abbiamo sviscerato i temi della questione medica la questione medica la questione medica va risolta partendo dal metodo di confronto ed è culturale, formativa, organizzativa, politica e guarda caso non interessa solo i medici l'ordine dei medici è un ente pubblico sussidiato dello Stato è un pezzo dello Stato e come tale non vogliamo mancare di rispetto a chi governa ma è rispetto come lo diamo, lo pretendiamo non vogliamo urlare i nostri diritti a volte cappestati non è il nostro stile ma vogliamo significare il disagio che la professione sta vivendo lo voglio dire piano, sottovoce, pacatamente come un medico fa quando si rivolge a un malato grave perché se non si ascolta questo disagio il nostro sistema sanitario, il nostro patrimonio nazionale si aggraverà sempre di più e non si può parlare di medici senza i medici non si possono banalizzare le competenze non si possono umiliare i valori professionali per esempio non si può chiedere ai medici del 118 di sacrificare la propria vita per coprire le carenze di un'errata programmazione del passato e poi decidere che quello che fa il medico lo può fare un altro professionista grazie all'intervento dell'assessore Bezzini siamo riusciti a far ripartire i corsi deo e questo impegno voglio riconoscerglielo pubblicamente ringrazio anche il ministro Speranza che ci verrà a trovare oggi e che è il ministro Speranza per il cambio di rotta che ha fatto fare al nostro sistema sanitario nazionale con gli investimenti avvoluto e ottenuto fortemente non saranno magari risolutivi ma intanto sono reali lo ringraziamo per aver triplicato le borse di studio negli ultimi anni per aver portato in porto la legge contro le aggressioni per aver costituito l'osservatorio delle professioni per aver disegnato un progetto di territorio ma soprattutto per l'ascolto che è una dote rara e ascoltare è molto più che sentire detto questo l'organizzazione sanitaria non è solo una fabbrica di prestazioni un sistema funziona sia un'organizzazione e un processo definito ma anche verificando gli esiti che non possono effusivamente essere misurati con indicatori di costo ma anche e soprattutto con indicatori di qualità clinica l'organizzazione sanitaria è un luogo complesso della comunità in cui le relazioni tra le persone contano molto ai fini della cura e si avvalgono delle tecnologie per migliorare sia le relazioni stesse che la cura e la tecnologia oggi fa passi da giganti le nuove cure per esempio per le malattie tumorali oggi danno maggiore speranze e certezze però costano ma il costo è delle nuove sfide di un nuovo progetto di salute non si può fermare il progresso ma si può governarlo se si intercettano le priorità e se si percorrono reali percorsi di appropriatezza e l'appropriatezza una volta per tutte vogliamo dirlo cari colleghi che è roba nostra che solo noi possiamo decidere anzi mi corrego che solo noi dobbiamo decidere cosa è giusto per il paziente insieme al paziente perché ne sentiamo la responsabilità i medici oggi quindi hanno bisogno di un maggior rispetto e serenità perché un ospedale o una casa della salute potranno essere bellissimi e modernissimi con i migliori macchinari come vuole il PNRR ma non conterà nulla senza i professionisti che ci lavorano e questi professionisti in concerto con le istituzioni e la politica potrebbero portare la sanità a diventare il volano dello sviluppo economico di questo paese sicuramente tutto questo non è la panacea di tutti i mali ma sono sicuro che le soluzioni non possono essere fuori da noi siamo noi professionisti della sanità che dobbiamo avere la capacità di affrontare i problemi di proporre, di proporci e sostenere le nostre soluzioni ecco forse abbiamo bisogno di costruire un nuovo patto un nuovo patto per la saloguardia del sistema sanitario nazionale e la mia proposta è di costruirlo insieme da una parte le competenze che può dare il mondo professionale dall'altro la visione lungimirante di una buona politica il mondo come abbiamo visto cambia in fretta se riusciremo a dare risposte ai bisogni che cambiano cambieremo anche noi noi siamo pronti a metterci in gioco se non ora, quando? oggi premeremo i 50 anni e i 25 anni dalla laurea e poi concluderemo la serata con il giuramento dei giovani colleghi è una sorta di passaggio di testimone tra generazioni e la stessa famiglia professionale un pensiero particolare voglio riservarlo ai nostri giovani concedetemi di ringraziare innanzitutto le vostre famiglie se siamo qui oggi a far festa e anche grazie ai sacrifici che loro hanno sostenuto con il giuramento è arrivato il ministro però va bene con il giuramento completerete quanto previsto l'ordinamento abbiamo il ministro della salute onorevole Roberto Scalante grazie grazie ministro per la sua presenza con il giuramento completerete quanto previsto dall'ordinamento e dalle norme deontologiche ed entrerete a pieno titolo nella professione una professione che ha della bella età di 2400 anni e che oggi come allora chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline le due discipline sono la scienza e l'etica oggi l'ordine consegna alla comunità senese i nuovi medici e i nuovi odontori altri giovani che hanno scelto questo mestiere per la voglia di mettersi al servizio degli altri ed è proprio a loro che voglio dedicare queste parole perché da oggi entreranno e dependeranno l'impegno con la professione, con il cittadino, con se stessi cari colleghi cari colleghe che oggi entrati di diritto nella famiglia professionale medica salvaguardate nel decoro con i vostri comportamenti quotidiani mantenete alta la voglia di lottare per i vostri ideali ma soprattutto siate curiosi la scienza ha questo di bello che ti racconta sempre storie nuove è come avere una chiave che apre tante serature con le quali entrare in queste stanze delle meraviglie e siate coraggiosi siate coraggiosi la parola coraggio è molto interessante viene dalla radice latina cor che significa cuore quindi essere coraggiosi significa avere cuore vivere con il cuore il coraggio vive nella nostra quotidianità nelle scelte di tutti i giorni nelle emozioni che ci guardano e che ci guidano a comprenderci è il coraggio di decidere una terapia di ammettere un fallimento di provare emozioni forti quando nasce un bimbo o muore un paziente quando dovete dire a un vostro paziente che le cure non possono più fare niente che la medicina non è infellibile che non esiste l'immortalità nonostante i passi avanti della scienza ecco allora dovete avere il coraggio di stargli vicino di ascoltarlo di prendervi cura dai suoi ultimi momenti si tratta di un coraggio diverso tenero inerte ma importante per chi soffre e chiede a voi vicinanza siate consapevoli che il medico oggi ha un ruolo fondamentale per la società che non è solo garantire l'applicazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione articolo che noi tutti conosciamo ma anche di garantire l'articolo 2 della salvaguardia dei diritti inviolabili come lo è il diritto alla salute e ancora l'articolo 3 che recita che tutti i cittadini sono uguali e che lo Stato deve mettere in atto tutto quanto in suo potere per far sì che questo sia garantito chi meglio del medico tutelando la salute delle persone di fatto garantisce tutto questo e il medico garantendo questi diritti contribuisce a garantire la Costituzione e quindi la libertà e quindi la pace è la storia del nostro paese di un paese civile per chi è medico poi c'è anche un obbligo di tipo deontologico nella vostra vita professionale potrete fare degli errori non nascondeteli ma imparate da essi e non smettete mai di emozionarvi mi vengono in mente le parole illuminate di Papa Francesco usa le lacrime per evitare la tolleranza usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza usa i tuoi errori con la serenità dello scultore e infine usa gli ostacoli per aprire la finestra dell'intelligenza e molto ma molto più modestamente io vi dico ricordatevi che il camice che indossate quando visitate una persona lo portate tutta la vita non sporcatelo mai per falsi traguardi e se proprio dovete sporcarlo sporcatelo con la polvere che fanno i sogni continuate a sognare a voi il compito di non smettere mai di sognare a noi il compito di lasciarvi un futuro migliore la scommessa per tutti noi medici è continuare a crederci a credere ad un'idea di futuro da condividere con chi è sulla nostra lunghezza lunga con chi si relaziona come noi tutti i giorni con certezze e speranze con chi come noi ha la capacità di coltivare la cultura del dubbio e coltivare quella curiosità che ci spinge verso la ricerca verso nuove cure verso nuovi orizzonti dandoci nonostante tutto e tutti la forza di tornare a desiderare con umiltà ma allo stesso tempo con la consapevolezza che la medicina vera risiede nella nostra storia nella relazione medico-paziente con la consapevolezza che non c'è medicina senza medici che non c'è sanità senza medici che non c'è tutela della salute senza i medici grazie e benvenuti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti